L'onore è altissimo, l'emozione è anche tanta, perché è un'opportunità di tipo l'unico e raro per i territori di Casarava, è la prima volta che il colpo dell'università viene qui ad orarci. Noi, timidamente, sull'invito della dottoressa Ducea Saragino, che vorrei ringraziare con un sonoro applauso, perché è molto, diciamo, è un impianto di idee, per cui ci affascinate, possiamo dirlo, in questa bellissima iniziativa, è un minè di una serie di manifestazioni che si sono avviate nella scuola in quest'ultimo periodo. Timidamente, dicevo, perché noi non abbiamo proprio il titolo a stare qui, se non per il fatto che c'è tutta un'emozione particolare, perché abbiamo tre ginsmeni di ragazze, con tre di Casarava, che proveranno ad interpretare il brano Leluia di Leona Cohen. Io inizi dal maestro violista Vittorio Giulia e dalla professoressa Schirizzi. Non ho altro da aggiungere, perché ogni parola che andrei a dire in più sarebbe veramente, diciamo, pressoché inutile, se non il fatto proprio davvero che io vorrei ringraziare, così come ha fatto giustamente la collega, il parlo con Antonio Schito, la dottoressa Schirizzi, il foro polifonico dell'università del Solento e tutti coloro uguali hanno reso possibile questa bellissima iniziativa che impregiosisce, come una sorta di diamante, le opportunità formative di crescita nel territorio di Casarava. Grazie. Un attimo per la composizione. Grazie. 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia... Polo 3 vuole augurare buon Natale a tutti con un bezzo con il programma. Abbiamo scelto le parole di Don Tonino Unbelto. Grazie. 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 Grazie.